Dopo l'iniziativa scuola in ospedale realizzata in collaborazione con l'Ulss8, l'IPAB per i minori di Vicenza insieme al Centro Provinciale Istruzione Adulti ha avviato una scuola di italiano riservata alle mamme straniere. L'iniziativa è nata dalla proposta del Comitato Genitori della Scuola Colombo e del Doposcuola San Giuseppe. Prenderà via tra settembre ed ottobre ed è prioritariamente indirizzata alle residenti dei quartieri San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, zona ovest della città. Gli insegnanti sono tutti volontari e i libri di testo sono offerti proprio dall'IPAB, nata 4 anni fa dalla fusione di 4 piccole opere pie, attiva in città da oltre 150 anni.